Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Sono passati diversi mesi ormai dal tragico omicidio di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa barbaramente dal suo fidanzato e adesso si torna a parlare di questo orrendo caso perché in un colloquio tra Turetta, il responsabile dell'assassinio della povera Giulia, e il padre, ebbene in questo dialogo registrato, intercettato, sono emerse delle considerazioni davvero inquietanti e a nostro giudizio massimamente criticabili, dove in sostanza si è un poco minimizzato sull'accaduto, probabilmente il padre l'ha fatto come egli stesso ha detto per indurre il figlio a sopportare la situazione e però a nostro giudizio, con tutto rispetto per il padre che evidentemente ha un dolore immenso dentro di sé, anche se certo non paragonabile al dolore che ha il padre di Giulia che ha perduto la figlia, ha cercato in qualche modo di dare coraggio al figlio responsabile, ripeto, di un omicidio orrendo e del tutto deprecabile. E in ogni caso si continua a parlare di questo caso che evidentemente non smette di far parlare di sé con tutte le tragedie che lo caratterizzano anche dopo che si è consumato. Dunque possiamo ben dire che questa vicenda, lungi dall'essere chiusa, è ancora una ferita aperta che continua a buttare sangue.